Una Brexit che non finisce mai ed un nuovo scontro tra Londra e Bruxelles. Lunedì il premere britannico Boris Johnson ha depositato alla Camera dei Comuni la proposta di legge per modificare unilateralmente il protocollo per l'Irlanda del Nord. Sulla carta il protocollo doveva salvaguardare l'accordo di pace del venerdì santo del 1998 che impedisce di istituire un confine rigido tra la Repubblica d'Irlanda e l'Alster. La ministra degli esteri britannica Liz Truss ha difeso l'iniziativa di Johnson definendola una soluzione ragionevole. Non l'ha presa bene invece il vice presidente della Commissione europea Maros Sefcovich. L'idea di rinegoziare il protocollo non è realistica. Non è stata trovata alcuna soluzione alternativa a questo equilibrio delicato e negoziato a lungo. Rinegoziare non farebbe che prolungare l'incertezza legale per le persone e le imprese nell'Irlanda del Nord. Quindi l'Unione europea non intende rinegoziare il protocollo. La ministra degli esteri Liz Truss ha twittato anche dopo il colloquio avuto con il premier irlandese Michael Martin scrivendo «Siamo aperti e negoziati ma non possiamo aspettare ancora per risolvere i problemi». Da Cork, circondato dai microfoni, ribatte così il primo ministro irlandese. «Noi non accettiamo il racconto del governo britannico o di alcuni ministri, in base al quale l'Unione europea sarebbe priva di flessibilità. Non è così assolutamente. L'Unione europea è stata estremamente propositiva nell'ultimo anno nel cercare soluzioni ai problemi concreti nell'implementazione del protocollo». La proposta di legge inglese ha riacceso le polemiche anche a Belfast. La maggioranza dei parlamentari nord-irlandesi ha inviato una lettera al premier britannico Boris Johnson. I parlamentari dell'Irlanda del Nord si oppongono con forza all'eventuale rinegoziazione del protocollo. «Noi non accettiamo l'unione europea».